Brescia, 28 maggio 2020, ore 10 e 12. Maestra, perché suonano le campane a quest'ora? Suonano per ricordare. Il suono delle campane è vita, è un tutt'uno con la storia della comunità e dei suoi abitanti. Le campane richiamano, ricordano, avvisano e danno anche il potere di evocare. E cosa devono ricordarci? Ci ricordano un fatto molto doloroso avvenuto nella nostra città, qui a Brescia, il 28 maggio di tanti anni fa. Era il 1974. In Piazza Loggia è scoppiata una bomba durante una manifestazione antifascista. Una manifestazione che voleva dire no al fascismo e portare avanti invece concetti di rispetto, tolleranza e uguaglianza. Una bomba? Sì, una bomba, che è scoppiata proprio alle 10 e 12. Ecco perché le campane oggi stanno suonando a quell'ora. È morto qualcuno? Purtroppo sì. Sono morte ben otto persone e 102 sono rimaste ferite. Ma chi ha messo quella bomba? Sono stati degli individui che hanno agito per colpire persone indifese, che partecipavano ad una manifestazione per esprimere la loro voglia di tolleranza, rispetto per l'altro, di lottare contro l'odio. E le persone che sono morte? Erano uomini e donne, mogli, mariti, mamme e papà. Molti di loro erano insegnanti, proprio come me. Otto persone, hai detto? Otto. Ecco perché le campane fanno otto rincocchi, per evocare il ricordo di ciascuna delle vittime. Si chiamavano Giulietta, Livia, Clementina, Alberto, Eoplo, Luigi, Bartolomeo e Vittorio. Maestra, ma io cosa devo fare? Nulla. Semplicemente ricordare, perché non succeda più. Portare nel tuo cuore, proprio come ci suggerisce il verbo ricordare, che deriva dalla parola latina corcordis, che significa proprio cuore. Perché è lì che gli antichi romani pensavano fosse collocata la memoria. Cercare di capire quanto dolore e quanto male possa dare l'odio, l'intolleranza, la prevalicazione. Agire, sempre nel rispetto degli altri. Ricordare Giulietta, Livia, Clementina, Alberto, Eoplo, Luigi, Bartolomeo e Vittorio non deve rattristirci, ma deve spronarci a fare sempre del nostro meglio, perché l'odio non vinca sull'amore. Solo questo? Iniziamo con questo. Vieni adesso. Le campane hanno finito di suonare. Prepariamo qualche fiore di carta. Così, nel pomeriggio, possiamo portarlo in piazza loggia. Così, nel pomeriggio, possiamo portarlo in piazza loggio. Così, nel pomeriggio, va portarla in piazza. Così, nel pomeriggio, può portarlo in piazza, loggio, va portarlo in piazza. Grazie a tutti